Siamo sponsor, partnership della manifestazione 50x50 che riguarda tutto il territorio, non solo pesarese ma anche i comuni limitrofi e la banca non poteva non essere presente in una manifestazione così importante. Appena ci hanno chiesto di partecipare come sponsor, ma più che come sponsor abbiamo valutato questa grande iniziativa fatta dal Comune di Pesaro dove è riuscito a portare sulla nostra comunità un evento così importante che testimonia ancora una volta la viva città e soprattutto anche l'interesse che mostra il nostro territorio in cui operiamo come banca di Pesaro. Siamo veramente orgogliosi di continuare e speriamo di continuare in questa direzione dove si parla tanto di desertificazione delle piazze mentre noi continuiamo ad assistere i territori, non solo le comunità vive, Pesaro, ma soprattutto i comuni limitrofi che ne hanno veramente bisogno. Una banca radicata nel territorio ed è una dimensione locale che trova una inedita dimensione di cassa di risonanza nazionale. Sì, guarda, è una banca locale che però ormai da diversi anni facciamo parte di un gruppo importante, il gruppo Bancari Crea guidato da un direttore veramente con una lungimiranza che ha dato la possibilità a tutte le BCC, siamo circa 117, di mantenere vive l'interesse per i territori. Non c'è questa corsa alle aggregazioni, fusione o alla mega dimensione ma lui è stato veramente molto lungimirante nel vedere di assistere le banche chiaramente nella sana e prudente gestione perché poi questo è fondamentale perché noi gestiamo il denaro dei cittadini in cui operiamo e investiamo soprattutto sui territori. Grazie al gruppo potremo continuare ad assistere sempre al meglio, chiaramente grazie anche ai grandi istituti che è fondamentale la presenza dei gruppi, secondo me, dei gruppi bancari nazionali e internazionali, ma le BCC per la dimensione diventando un tutt'uno sono il terzo gruppo bancario italiano e io penso che continueremo così per tantissimi, tanti tanti anni.